Torneo internazionale di Cuneo, sei tra i favoriti, come ti presenti a questo torneo? Cosa significa per te essere qui a Cuneo? Volver a Cuneo sempre è molto speciale, vengo qui da quando ero molto piccolo e essere numero uno è sempre difficile, hai molta pressione, molte aspettative e hai ganas di venire, perché defiendi molte cose e sono molto contento di tornare a questa città che mi piace e spero di farlo molto bene. Quindi, insomma, il livello è alto, sarà difficile per te? Sì, sì, sempre è difficile giocare al tenni, e più con una gente con tanto livello, con tantos professionisti che fanno ogni partito così difficile e ojalá che poco a poco, poi, cada partito, podamos luchar e sacar lo miglior possibile e intentar, poi, ganare e arrivare alla fine.